Invece cosa accade? Che la sera dell'8 settembre, dopo tutte queste conversazioni, placati i presenti da tutta questa tensione, andarono a riposare nei vari palazzi con appuntamento dato personalmente da Badoglio per le prime ore del mattino successivo. Intorno alle 6 di mattina le macchine di servizio andarono a prelevare i 75 personaggi, sì, i 71 personaggi che ne avevano competenza e diritto affinché potessero partire, lasciare Roma. Quindi quella fu l'ultima notte inquieta, ma passata sotto la protezione dei palazzi per un incerto futuro, perché nessuno sapeva dove sarebbero andati. Il segreto è segreto, ma Badoglio sapeva, non poteva non aver organizzato una fuga, non così, prendi la 24 ore che si parte domani mattina. Sapero che devono partire, forse il re. Badoglio esattamente sapeva da quale parte indirizzarsi, partire da Roma, dopo che sicuramente i tedeschi stanno prendendo qualche provvedimento. Doveva essere ben chiaro a chi aveva organizzato tutta questa cosa qui, dove andare? Questa colonna di auto si incamminò sulla Tiburtina, per andare dove? L'appuntamento era a Pescara, quindi si parte da Roma con la raccomandazione che i 51 membri eletti potessero arrivare fino a Pescara, perché entro le ore 24 sarebbero dovuti montare su una corbetta chiamata Baionetta, fatta arrivare apposta da Zara. Non poteva essere una telefonata per decidere all'ultimo momento, pensate voi. Quindi era già un colpo, una strategia preparata da molto tempo, ecco il significato anche di questo rinviare, rinviare, perché fino a che non avesse l'assicurazione dove andare, con chi e perché, questo spostamento di queste erano le grandi istituzioni reiche, non si poteva fare. Questo è importante, pensare a questo. E partirono. Ma a un certo momento partirono molto rasserenati, in quanto i posti di blocco che aveva istituito il comandante che avevano avuto l'ordine di lasciar passare, senza creare problemi, questa colonna di auto preceduta dalla Fiat 1800 personale del re, con i colori grigio-verdi, che appunto portava il re e la regina, il re in divisa, seguendo tutte le altre macchine, su cui c'era anche il principino, il principio Umberto, il quale stava abbandonando la sua divisione che comandava di Roma, abbandonava una delle quattro divisioni di cui era comandante e in divisa andare altrove. E così tutti quanti gli altri, i capi di Stato Maggiore, vari ufficiale, qualche membro del governo, e che era una cosa da niente. Era una committiva seria, consistente, fatta da responsabili, da pezzi grossi, vorrei dire anche da pezze grosse. Non lo so quante donne ci fossero, per carità, innocentemente, oltre alla regina, era fatta salire in queste macchine. Addirittura, in questo tragitto, che a un certo momento prese quasi come il sapore di una città fuori porta, ormai erano tranquilli, i tedeschi li lasciavano passare, erano sicuri che arrivati lì a Pescara, rettifica a Ortona a mare, perché Pescara era troppo grossa, ci potesse confesso, quindi è stata spostata sul molo di Ortona al mare, la committiva, in maniera che sarebbe salita su questa corvetta famosa. Cominciarono gli arrivi, entro le ore 24, un passo indietro, tanto che ha preso il sapore di una scampagnata vicino a fuori porta, che il re, il principe e la regina si fermarono per andare a trovare degli amici, il conte di cui non ricordo il nome, comunque che aveva il castello da quelle parti. Non credo che ci sarebbero presentati senza un preavviso, questa è ancora una conferma che si andava sicuri di poter effettuare un tragitto in piena sanità. Bene, che cosa accade? Che a Ortona si imbarcarono sulla corvetta, ma la massa di persone non sapeva dove sarebbe diretta. salire su una corvetta fatta via da Zara, una reggia corvetta tutt'ora, doveva comunque avere un ordine di servizio, perché a un certo punto si resero conto tutti gli altri, quelli che lo sapevano non dovrebbero essere conto, che si sarebbe diretta nei territori del sud d'Italia, ma in una località non secretata, ma ignota, in quanto dovevano a un certo punto sapere se il punto in cui sbarcavano ci fossero meno già arrivati di invasori anglo-americani. E' una questione seria, non è che avevano preavvisato gli anglo-americani di quello che stavano facendo e quello che avrebbero fatto. Allora per via radio finalmente potessero avere i contatti con il comandante del porto di Brindisi, il quale rassicurò che la zona non era ancora stata raggiunta dall'invasore, non vi sto a dire i nomi del comandante, perché in questo momento non mi ricordo, rassicurati di poter sbarcare liberamente tranquilli e finalmente la comitiva vi arrivò e fu naturalmente sistemata in maniera decolosa, due punti, in attesa che arrivassero le truppe dell'ex nemico che attualmente doveva essere tra virgolette un amico, dimenticando o dovendo prendere coscienza che le truppe militari, cioè le truppe portavano con sé, con loro, anche un'occupazione di un governo militare sul territorio. Quindi quando arrivarono questi invasori che per loro erano dei liberatori, si sottomissero al comando militare alleato della terra di occupazione, questo è importante.